Buongiorno a tutti, oggi è martedì 31 dicembre e leggiamo il Vangelo secondo Giovanni capitolo 1 versetti dall'1 al 18. In principio era il verbo e il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno accolta, venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui, egli non era la luce ma doveva rendere testimonianza alla luce, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo riconobbe, venne tra la sua gente ma i suoi non l'hanno accolto, a quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal padre pieno di grazia e di verità, Giovanni gli rende testimonianza e grida ecco l'uomo di cui io dissi colui che viene dopo di me mi è passato avanti perché era prima di me, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia perché la legge fu data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio unigenito che è nel seno del padre lui lo ha rivelato. Ecco oggi meditiamo il prologo del Vangelo secondo Giovanni, si tratta dell'apertura dell'incipit del Vangelo di Giovanni ma in realtà fu l'ultima parte dei suoi scritti entrati nel Vangelo, praticamente è un po' il riassunto finale che trasmette tutta la sua visione su questo mistero di Cristo. Per Giovanni Gesù è parola di Dio fatta carne, perciò tutto ciò che lui dice lo fa e questa comunicazione che c'è tra il padre e il figlio rivela nella carne l'amore del padre. Appare fin dal principio del mondo come è scritto dall'inizio della Bibbia in Genesi capitolo 1 versetto 1, in principio Dio creò il cielo e la terra, questa creazione, sembra dirci Giovanni, ha a che fare con Gesù. Per lui, con lui e in lui tutto esiste e questo anche la liturgia ce lo fa proclamare durante la Santa Messa. Quello che ci insegna il Vangelo allora oggi è che ogni realtà nasce e si percepisce come atto di relazione ma perché l'essere umano possa comprendere questo che è fondamentalmente atto di relazione ha bisogno della luce di Dio, una luce che brilla dentro la carne, che salva dal limite del peccato e anche dal limite della ragione. La luce di Cristo infatti, luce di sapienza incarnata in Gesù, supera l'intelletto umano perché l'intelletto umano è limitato, ha bisogno di accogliere la luce vera, ha bisogno di compiere almeno un atto di libertà perché la verità possa illuminare dal di dentro le cose, i fatti, le persone, la vita, la nostra vita. Per questo il Vangelo oggi ci dice che solo le persone che accettano la parola di Dio dentro la propria vita, dentro la propria storia, nella realtà umana solo loro diventano figli e figlie di Dio. Non per propri meriti, l'abbiamo ascoltato, non per il fatto di appartenere al popolo ebraico ma per la fede in Dio e nella sua bontà. E la verità che commuove le profondità dell'umano è chiusa in questa frase che Giovanni in questo prologo ci consegna. Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questo è il mistero della nostra fede. Se il popolo ebraico fa memoria di Dio che nel deserto viveva in una tenda in mezzo al popolo, lo accompagnava giorno per giorno, lo leggiamo nel libro dell'Esodo capitolo 25, versetto 8, noi cristiani crediamo che Dio abita con noi, in noi, grazie a Gesù, verbo incarnato. Allora oggi, in questo 31 gennaio 2019, non possiamo che ringraziare Dio. Ci troviamo ormai alla fine di quest'anno di grazia e ci troviamo ad accogliere con gratitudine il nuovo anno, il 2020. Sembra fantascienza 2020, invece è storia, è storia presente. Il Signore è con noi, il Signore ci guida, abbiamo davanti a noi la vita. Rendiamo grazie a Dio perché questa vita è piena di Gesù e perché nella vita abbiamo ricevuto la fede in Gesù che è il dono più importante che ci hanno fatto, il dono più bello che abbiamo riconosciuto. Anno dopo anno questa fede cresce con noi. Con la gioia, con la lode nel cuore rendiamo grazie a Dio. Mi viene in mente un canto che molti conosceranno che riporta proprio queste parole, rendete grazie a colui che è santo, rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù e possa il debole dire sono forte, possa il povero dire sono ricco per quello che ha fatto il Signore per me. Ecco, il Signore susciti dalle nostre labbra questa lode per la fede in Gesù vivo, risorto, presente, che vive in mezzo a noi. Buona giornata e buon anno nuovo.